Torre del Greco, piazza Luigi Valomba. Perché si chiama così? Quanti nomi ha cambiato questa storica piazza della città di Torre del Greco? La mia città? Dalla fine del Cinquecento o l'inizio del Seicento, questa piazza porta il nome di Piazza Giardini del Carmine o Largo Giardini del Carmine. Il motivo è facile da intuire, si trova vicino la Chiesa del Carmine. Addirittura le traverse che si trovano nei pressi della piazza portano ancora questo nome. Tuttavia nel 1799, a quanto pare, proprio con la Repubblica Martenopea e quindi con l'arrivo dei francesi in Italia, la piazza cambia nome, diventa Piazza del Popolo. Passano gli anni, siamo in epoca fascista. Nel 1940 muore Italo Balbo. L'anno dopo, nel 1941, la piazza viene intitolata proprio a Italo Balbo, il gerarca fascista. Finita la guerra, l'Italia diventa una repubblica. È tempo di cambiare nome, quindi non più intitolata un gerarca fascista. La piazza viene finalmente intitolata a Luigi Palomba. Ma chi era Luigi Palomba? Luigi Palomba era l'ultimo sindaco eletto democraticamente prima che questa carica scomparisse all'epoca del fascismo, quindi prima dell'istituzione del Podestà. Quindi il nome Luigi Palomba ha un significato fortemente simbolico per la città di Torre. Ma per tutti i torresi la piazza porterà il nome Miezador. Curiosità, nel gergo comune, a volte su alcune cartoline viene addirittura indicata come Piazza Garibaldi, perché è presente una statua di Garibaldi. In realtà la piazza non ha mai portato questo nome. Io sono il prof Capano. Lei è sempre Nerina. E vi do appuntamento alla prossima pinzellacchera.